Come avete visto siamo dove Italia Armi è cominciata sei anni fa Volevo festeggiare con voi i 10.000 iscritti E' un po' che aspettiamo l'arrivo di questo numero E' finalmente arrivato Cosa che ci dà un input per fare sempre meglio Io vi vorrei presentare Manuel Ciao Che mi assisterà Un nuovo membro dello staff Che mi assisterà nelle prove di tiro e nei video che verranno Un'altra cosa che vorrei introdurre a questo video E' un sondaggio Vorrei sapere chi di voi è interessato a gadget Quindi cappellini e magliette Io con questo vi saluto, vi ringrazio E brinderemo alla vostra salute Grazie a tutti Ciao Ciao